La rincorsa di Parisi, il pallone a cercare il giorno che cerca di trovare Morra, il tocco di tacco per Parisi che va al cross, colpo di testa e il gol, il gol ci piace, 1-0, chiaro il gol, il colpo di testa di Plescia, il miracolo di Matosevic, è il numero 18, la mette alle spalle, 1-0 per noi al minuto 50, forza ragazzi, bellissima azione sull'out di destra, col tocco d'esterno, fantastico, da parte di Tacco, da parte di Morra, il cross di Parisi, colpo di testa di Plescia, il miracolo, anzi scusate, alla rovescio, il colpo di testa di Morra, il colpo di tacco è stato di Sulic, la parata del portiere, ma è arrivato Chierico che mette alle spalle di tutti, 1-0 per noi al cinquantesimo con il primo gol in campionato di Chierico, ma la bellissima azione sulla destra di un Piacenza che sta giocando una buona partita, inquadrate adesso i tifosi biancorossi che stanno esultando, 1-0 per il piace, 40 minuti alla fine della partita, una vita, ma siamo avanti noi, 50 e 42, Tristina 0, Piacenza 1, a te cross.